mi cascano le braccia le palle se sapeva perché già era nell'aria e non dico che me ne so fatto una ragione ma quasi perché comunque cioè ragazzi la cifra è importante cioè stiamo a parlare 75 milioni di euro 70 più 5 è quello che si dice attualmente poi cifre ufficiali ancora non ci stanno ma insomma lo dicono tutti alison alison è un nuovo portiere del liverpool ragazzi bella a tutti dal gabon bella a tutti dal gabon parliamone 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 perché un conto è vi faccio l'esempio lo scorso anno sempre un acquisto fatto dal liverpool proprio ai nostri danni mohamed salah che c'hai comunque necessità di cedere perché c'avevi necessità di cedere per via del fair play finanziario e quindi ti sei dovuto tra virgolette accontentare perché se guardiamo la stagione che ha fatto salah con liverpool attualmente ti hanno dato una cinquantina di milioni ma ne vale molti di più e sicuramente qualora non avessi avuto la fretta di cedere gli avresti potuto strappare qualcosina in più alison la scorsa stagione con la roma è stato eclatante è stato eclatante e decisivo perché una decina di punti se non più la roma ce li ha avuti solo grazie ad alison non mi ricordo tutte le partite però magari una partita stavi sullo 0 a 0 alison ti fa un paio di miracoli arrivi butti una palla in rete e vinci 1 a 0 oppure sto a buttarla là perché non mi ricordo ma so per certo che in parecchie partite così è successo oppure che ne so stavi pareggiando 1 a 1 alison fa il miracolo la roma segna il 2 a 1 e si porta altri 3 punti a casa ci sono stati o magari in qualche partita ti ha salvato anche il risultato e alla fine è finita un pareggio insomma mi ricordo che ci sono stati tanti e tanti tanti punti che alison ti ha portato in casa e permettetemi di dire che per un portiere sicuramente non è una cosa a cui siamo abituati solitamente i punti a casa te li portano gli attaccanti o i centrocampisti o magari in colpo di testa del difensore ecco se guardiamo l'operazione del mercato sotto questo punto di vista io non posso pensare al prossimo anno senza alison in porta abbiamo preso mirante abbiamo dato via skurupski è ovvio che dobbiamo andare a cercare un altro portiere i nomi già li ho detti nel video nello scorso video in cui ho parlato di alison col buon fabio se parla di areola se parla di olsen se parla di donna ruma ma in quel caso io dico che qualora la roma virasse realmente su donna ruma cioè c'è un portiere a 75 milioni di euro e prenderne uno per cui il milan come minimo ne vuole 50 55 60 non lo so la sto a spararla c'ha poco senso a quel punto detieni alison ma mi sembra di capire che alison era realmente intenzionato a partire c'erano già stati interessamenti da parte del real madrid e ovviamente aveva dato l'ok poi il real madrid ha deciso di virare su courtois in scadenza di contratto col celsi e che quindi pagherà all'incirca una 35 milioni di euro che comunque è un affare per un portiere che alla fine c'ha gli stessi anni di alison e comunque so già parecchi anni che sta garantendo prestazioni importanti il portiere belga il celsi che ovviamente sembra non aver rilanciato perché alla fine se se l'è preso il liverpool non ha rilanciato o perlomeno queste erano le ultime indiscrezioni perché se sarà reso conto che 75 milioni di euro sono veramente tanti per rilanciare ovviamente devi alzare l'offerta almeno dei 5 6 7 milioni di euro e quindi ha deciso di lasciar stare bisognerà vedere chi si prenderà al celsi perché al 90 per cento non vogliono perdere courtois a parametro zero e quindi rimarranno senza portiere ma quello è un altro discorso riguardo il discorso della roma c'ho paura per la prossima stagione perché ripeto qualsiasi portiere arriverà non farà mai spero decufalla ma credo che non farà mai la stagione che ha fatto alison quest'anno è veramente difficile ripetere una stagione del genere in cui non ci ha mai avuto bassi ma solamente alti in molti mi hanno detto è ma 75 milioni per un portiere del genere che t'ha fatto una una sola stagione per carità ma te l'ha fatta ad altissimi livelli è un'offerta rinunciabile non siamo real madrid non siamo il barcellona puntiamo ad arrivare a quei livelli ma siamo purtroppo come si può dire disposti disposti a sentire delle offerte rinunciabile perché di questo stiamo parlando è diventato il portiere più pagato del mondo cioè prima di lui il più pagato se non sbaglio era buffon che è stato pagato dalla juventus un 50 53 milioni di euro per un portiere 75 milioni io credo che realmente solo real madrid barcellona forse lo united forse il city avrebbero rinunciato ad un'offerta del genere da parte di un'altra squadra qualora loro ce lo avessero avuto proprio proprio dalle dalla loro parte ecco questo è quello che penso io mi ricorda tante operazioni di mercato ultimamente non so la juventus che alla fine decise di di cedere pubbà per una cifra veramente grossa alta perché all'epoca insomma un centinaio di milioni di euro per un centrocampista erano veramente cifre assurde ecco siamo arrivati in un calcio in cui praticamente ormai andiamo sempre tra virgolette sempre tra virgolette l'avrò detto 175 volte a peggiorare dal punto di vista delle proposte economiche i giocatori prendono delle valutazioni stratosferiche anche solo con una stagione ad altissimi livelli per carità quindi ripeto da tifoso mi dispiace tantissimo perché io so sicuro che il prossimo portiere che arriverà il titolare poi può essere pure che lo farà ammirante io non ve so di nulla al riguardo ma credo che la roma qualcosa sul mercato lo debba prendere per forza alla prima stronzata che farà poraccio lui conosco l'ambiente roma conosco l'ambiente roma spero e dico spero che si faccia del tutto per per far arrivare il nuovo portiere che sarà e di lasciarlo lavorare con con la dovuta tranquillità perché o ripeto sarà veramente difficile paragonarlo ad alisson per quello che ha fatto è anche vero che qualora alisson fosse rimasto alla roma magari non avrebbe offerto la stessa prestazione che ha fatto quest'anno perché dei mostri sacri che riescono sempre a mantenersi su determinati livelli attualmente attualmente scusate c'è più a parlare io conosco ronaldo e messi che nel bene o nel male hanno vinto 5 palloni d'oro per uno e comunque fanno sempre tanti e tanti gol e comunque risultano decisivi chi in Champions League chi in campionato è difficile insomma essere continui col sendote poi bisogna vedere quello che farà con Liverpool perché Liverpool ovviamente c'ha capacità c'ha capacità c'ha un ottimo attacco si è assicurato un portiere sicuramente ottimo e quindi io spero che non faccia quello che ha fatto Salah perché quello è un portiere che dovesse riconfermare la stagione che ha fatto quest'anno con la Roma potrebbe valere tranquillamente il doppio se non il triplo e quindi ovviamente visto che vorrei che li rincontriamo un Champions non ce voglio pensare anche perché Salah più Cosu, Salah più Alisson non gli voglio manco augurare di far papare in Champions League come ha fatto Karius poverino perché comunque non si augura mai il peggio a uno che fino all'altro giorno ha difeso i tuoi pali e lo ha fatto professionalmente parlando con il massimo dell'impegno però insomma preferirei che il suo valore di mercato non salisse alle stelle perché se non rosicherei perché dico fosse rimasta la Roma un altro anno magari lo avremmo potuto vendere la stagione dopo a tanto tanto di più se proprio uno deve vendere voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti secondo voi la Roma ha fatto bene accederlo a quelle cifre ripeto non mi sento di di no ha fatto una cazzà da tifoso sì vi dico me dispiace me dispiace però so 75 milioni di euro io mi auguro credo penso e spero che verranno interamente reinvestiti mi auguro di dove va il giusto sostituto che riesca a limitare i danni rispetto a quello che avrebbe potuto fa alison nella prossima stagione e mi auguro che reinvestano parte di quella cifra che hanno preso per alison per prendere magari un altro top un acquisto da 30 35 milioni che ci possa aiutare per la prossima stagione noi ogni anno ogni anno però quest'anno pure naingolan che non rientrava più nei piani della società nei piani tecnico tattici della società io non lo riesco a vedere all'inter cioè io l'altro giorno ho visto una foto su instagram di naingolan con la maglia dell'inter guardo là come come se ci avessi davanti la foto di naingolan non ce posso crede e sinceramente prima che digerirò anche ancora non digerisco salà figuratevi ce ne vorrà veramente tanto per riuscire a digerire anche questa però un conto è che dico tra virgolette non avete visto il video di naingolan secondo me la roma l'ha un po svenduto a livello economico perché parere mio valeva molto di più e soprattutto le contropartite non è che mi entusiasmavano tanto ma evidentemente come hanno detto in tanti sapevano già che ronaldo sarebbe arrivato alla juventus e hanno preso santon che è l'unico che ai tempi dello united se santon ai tempi dell'inter e ronaldo tempi dello united riuscì a fermarlo se non mi ricordo male chi lo sa non lo so vabbè detto questo lasciatemi a vivere su questo se ve va se ve va arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate col vostro parere ve lascerò un sondaggio in alto a destra che per me a sinistra per voi alla destra in cui vi chiederò appunto se la roma ha fatto bene ad accettare un'offerta irrinunciabile regà irrinunciabile con chiunque ho parlato mi ha detto può essere forte quanto te pare ma so 75 milioni d'euro pen portiere pen portiere e quindi vedremo quello che riusciremo a fare voglio dar fiducia alla mia dirigenza perché ripeto la campagna acquisti quest'anno è stata importante sono stati comprati tanti giocatori di prospettiva e quindi diciamo che le somme le tirerò a fine stagione vediamo dove arriverà la roma e in champions league e in campionato e in coppa italia e poi potrò dire avete fatto bene o avete fatto male poi guardando come saranno le prestazioni di neingolana all'inter se l'inter chi lo sa ci arriverà sopra o meno e guardando le prestazioni anche di allison con liverpool che chissà quello che combinerà profilo instagram capo mezzette seguitemi anche lì faccio stories vi fate gli affari miei pubblico le feed pubblico i video i contenuti che youtube ultimamente lo sta avvisando con le feed quindi li scoprirete sempre i miei contenuti stessa cosa sul mio canale telegram la vi mando direttamente il messaggino classico arriva personalizzato cliccate vedete il video e sta a posto così pareri discordanti secondo me la tifoseria si dividerà tra chi dice era meglio non cederlo e chi dice io te lo ho un pacchetto a 75 milioni di euro ciao ragazzi spero di non essermi dimenticato nulla comunque il giocatore percepirà più di 5 milioni di euro a stagione io credo che forse la roma se potrebbe si sarebbe potuta anche spingere ad offrirgli un contratto del genere ma ripeto quando arriva quell'offerta sbatto le mani credo che che l'intenzione della roma cioè non era quella di provare a trattenerlo perché la cifra è veramente importante ciao